Il mondo finanziario tradizionale ha finora mostrato poca attenzione per Bitcoin, molta invece per la blockchain, la tecnologia sottostante. Ma questo è proprio il momento storico di constatare il fallimento degli esperimenti blockchain. Basta qui ricordare R3, la startup finanziata per centinaia di milioni di dollari da tutte le principali banche mondiali, che non ha partorito in sei anni alcun risultato rilevante. La finanza non ha bisogno della blockchain. Piuttosto è l'economia blockchain dell'oro digitale Bitcoin ad aver bisogno di servizi finanziari. Abbiamo visto Coinbase, la principale borsa dollaro Bitcoin, quotarsi al Nasdaq per un controvalore di 65 miliardi di dollari. Coinbase nasceva nel 2015, quando proprio in intesa San Paolo immaginavamo di poter lanciare una equivalente e simile borsa in Europa. Futures su Bitcoin sono quotati dal 2017 al Chicago Mercantile Exchange, che offre dall'anno scorso anche la quotazione delle opzioni. Se fino ad un anno fa l'unico strumento quotato per prendere esposizione su Bitcoin era il Trust Grayscale, oggi abbiamo una ridda di ETF, ETP, ETN, quotati in Canada e in Europa, che consentono ai risparmiatori di investire in Bitcoin. Nel 2021 tutti danno per inevitabile un ETF quotato negli Stati Uniti. Un altro settore in crescita straordinaria è quello della custodia, promossa da start-up tecnologiche che diventano abilitatori per tutti quei servizi finanziari su Bitcoin che necessitano di un'infrastruttura sostanzialmente equivalente a quella delle attuali banche depositarie. Negli Stati Uniti due custodian hanno ricevuto licenza bancaria, così come una borsa Bitcoin. Inoltre tutte le banche sono autorizzate a fare custodia dei cryptoasset, tanto che Bank of New York Mellon ha investito nella start-up Five Blocks per poter erogare servizi di custodia in ambito cryptoasset e PayPal ha comprato l'israeliana CARV per internalizzare il processo di custodia. L'Europa resta colpevolmente al palo. Ancora ferma la dichiarazione dell'autorità bancaria europea del luglio 2014, EBA incoraggiò allora i regolatori nazionali a dissuadere le istituzioni finanziarie dal comprare, vendere e detenere cryptoasset. Sono passati sette anni da allora e colpevolmente non è stato fatto nessun passo in avanti. Anzi, proprio qualche settimana fa Banca d'Italia e Consob hanno emesso un comunicato congiunto per esprimere ancora preoccupazione verso gli investimenti in cryptoasset proposti da attori non regolati e di discutibile credibilità. D'altronde, l'industria italiana sta ancora aspettando che venga istituito il registro dei cosiddetti Virtual Asset Service Provider come previsto dalla quinta direttiva antiriciclaggio già adottata dalla nostra normativa. Tale registro permetterebbe proprio di essere regolati e autorizzati. Qualche segnale positivo lo si vede da operatori innovativi come Banca Generali che ha investito in Conio, l'azienda italiana che ha sviluppato un wallet, un portafoglio per cryptoasset. Se questo diventasse un trend potrebbe aiutare a valorizzare le eccellenze italiane nel settore.